Musica Al consueto appuntamento con la rassegna stampa di TV Molise la nostra panoramica sui giornali nazionali e ovviamente regionali che inizia da Il Quotidiano del Molise inclusione sociale bando per 909 tirocini approvati gli indirizzi operativi da parte della giunta regionale possono accedervi le categorie svantaggiate in alto sanità paziente deceduto la Asrem puntualizza no a inutili strumentalizzazioni a Termoli invece i comitati no tunnel non ci arrenderemo corte dei conti danno era reale per tre consiglieri regionali dell'Italia dei Valori confermata dunque dalla Corte d'Appello la sentenza e poi uno spettacolo dal sapore antico che conserva il suo fascino quello della transumanza dei colantuono rito antico emozioni nuove Palazzo San Giorgio approvato consuntivo 2016 a Campobasso ieri in consiglio e poi ancora nel capologo regionale in vista della festa del Corpus Domini venditti declina sarà Alex Britti la star del concertone individuati fidanzati terribili specializzati nei furti colpi all'unimo l'alcus e anche in una cooperativa giornalista in trincea e sotto scorta l'informazione resti libera la testimonianza di Federica Angeli e poi Sernia autovelox autovelox quello di macchia il comune vuole andare fino in fondo la Cassazione ci ha dato ragione fanno sapere e poi Chef Rufo tenta il colpaccio alla prova del cuoco oggi la sfida con la temibile Basilicata termoli bollette dell'acqua decine di utenti protestano con la Crea la società che gestisce il servizio le pagine interne Albino passaggio di consegne domani mattina la firma della presa in carico della biblioteca provinciale da parte del MIBAC parla io Fredi si chiude nel migliore dei modi un percorso condiviso tra regione, provincia e ministero inclusione sociale c'è il bando per 909 tirocini approvati dalla giunta regionale gli attesi indirizzi operativi per il finanziamento da 3 milioni di euro autorità di Bacino Nanni adottati i piani stralcio per l'assetto idrogeologico a Roma la prima seduta della conferenza istituzionale permanente poi le pagine dedicate a Campobasso venditti dice no c'è Alex Britti corpus domini è arrivata la risposta negativa dal cantante romano sul concertone entourage irremovibile infatti sul cachet ritenuto non soddisfacente l'amministrazione opta a costi ridotti dunque per l'autore dei 7 mila caffè Alex Britti e il consiglio approva il consuntivo con una seduta lampo critiche le opposizioni pilone non fa sconti perdite per il comune questa è la valutazione furti a raffica presi fidanzati terribili la coppia di ragazzi e un loro amico sono stati denunciati dalla squadra mobile a vario titolo sono responsabili di colpi messi a segno in diversi in diversi luoghi all'Unimol al CUS e nei locali di una cooperativa l'informazione corretta è il sale della democrazia così la giornalista Federica Angeli nell'incontro con gli alunni della Dovidio la giornalista vive sotto scorta dal 2013 a causa delle minacce di morte subite a Ostia mentre raccoglieva informazioni per il suo giornale stava svolgendo un'inchiesta sul racket degli stabilimenti balneari a Boiano PSR risorse per l'acquedotto rurale il sindaco ha annunciato anche un finanziamento relativo ai servizi per la prima infanzia il comune in questione però nella pagina di Boiano è quello di Sepino le novità illustrate nel corso dell'ultimo consiglio comunale e a Disernia invece Autovelox il comune tira dritto l'avvocato Lucio Epifanio è solo un fuoco di paglia la Cassazione già ci ha dato ragione per un ricorso ma che a Disernia va avanti senza tregua la lotta giudiziaria con le associazioni degli automobilisti che si oppongono e sostengono l'illegittimità dell'Autovelox altri sette comuni dicono sì all'accoglienza migrante cresce l'adesione al progetto SPRAR Piscina nella città Pentra Fabrizio chiede tempi certi il consigliere Sernino chiede l'UMI sulla riapertura della struttura lo fa con una interrogazione anche peraltro incentrata sulla gestione tributi porta a porta nelle borgate petizione per dire no promossa da Di Baggio su istanza dei residenti non pagano il mutuo sfrattati da quando ha perso il lavoro il quarantenne non è riuscito ad onorare il debito con la banca la casa è stata venduta all'asta ieri mattina alla visita del funzionario delle forze dell'ordine Agnone il caracciolo ancora al ministero il viceministro della salute la competenza esclusivamente della regione molise i tassisti romani ed il sindaco di Agnone incontrano il sottosegretario Faraone proposto invece della banda ultra larga in città nella città alto molisana per navigare con le vele spiegate per così dire il comune infatti aderisce al piano di sviluppo portato avanti dall'azienda Telecom e lasciamo Agnone ma con Agnone anche il quotidiano per approdare a primo piano Molise spese dei gruppi gli ex IDV condannati pure in appello la prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha infatti confermato la decisione dei magistrati molisani ma ha concesso uno sconto del 10% sulle somme da rimborsare fondi non utilizzati per finalità istituzionali questa la motivazione la sentenza con Di Pietro Junior Parpiglia e Tedeschi che devono restituire 40.000 euro la provincia vende i mezzi per fare cassa di Sernia a proposito di inclusione sociale 3 milioni per chi rischia povertà la regione finanzia 909 tirocini sanità muore dopo tre giorni d'agonia l'ASREM chiarisce protocollo rispettato mentre a Campobasso furti all'università in palestra all'ospedale coppia di fidanzati incastrata dalla polizia ma c'è un terzo responsabile Montenero il ministero dall'Ok il centro di stoccaggio gas tra Abruzzo e Molise si farà e a proposito di cose che si faranno venditti costa troppo salta al Corpus Domini suonerà Alex Britti pagine interne 3 milioni 909 tirocini in arrivo l'avviso pubblico misura del porro per chi non ce la fa frattura e facciola opportunità di riscatto per le persone indigenti e poi l'appello conferma gli ex IDV devono restituire 40 mila euro respinto dunque il ricorso di tedeschi di Pietro e Parpiglia la Corsa dei Conti nazionali sui fondi dei gruppi a proposito di qualche dettaglio contestati i contributi al partito e le spese di campagna elettorale il delegato allo sport gli stessi fatti archiviati dal PM penale assetto idrogeologico parla Nanni adottati i piani per il Trigno e il Biferno a Roma la conferenza dell'autorità di Bacino dell'Apenino Meridionale l'assessore applauso del ministro Galletti per aver completato l'iter e poi a Campobasso Corpus Domini in vista della festa Antonello Venditti troppo caro il comune sceglie Alex Britti ma spunto è il problema della location più leggero il cachet del chitarrista romano che salirà sul palco per soli tra virgolette 38 mila euro il rischio sicurezza per il concerto in piazza prefettura dunque per portare in città l'autore di Ci vorrebbe un amico Palazzo San Giorgio avrebbe dovuto sborsare 70 mila euro e oltre a questo il cachet richiesto dall'entourage di venditti ed ecco perché è saltato rendi conto 2016 dopo i ritardi arriva l'ok soddisfatto l'assessore Sabusco un documento in perfetto equilibrio con un avanzo di gestione di 35 milioni di euro bocciata la pregiudiziale dei 5 stelle che chiedevano invece di rettificare questo bilancio alla luce dell'acquisto dell'auto blu colpi all'università in clinica e in palestra beccata la coppia col vizio del furto e due fidanziati di Campobassani hanno derubato dipendenti e pazienti ricoverati denunciato dalla polizia anche il terzo complice e poi un episodio di cronaca va a spasso in pieno centro nonostante i domiciliari arrestato il pregiudicato di 50 anni è stato trasferito nel carcere di via Cavour Isernia dal municipio niente spese legali a Giulio Castiello di Clemente e di Schiavi contestano le richieste dell'ex dirigente e minacciano peraltro denunci alla Corte dei Conti porta a porta nelle frazioni petizioni contro il servizio il consigliere Roberto Di Baggio portavoce della protesta nata a pochi giorni dell'attivazione della differenziata Automezzi e Spargisale in vendita per garantire i servizi alla comunità e l'iniziativa estrema della provincia che senza soldi mette all'aste i beni per reperire le risorse necessarie allo sfalcio dell'erba e alla manutenzione delle strade di competenza via le scritte dai muri e del sottopassaggio in azione Casa Pound ecco una foto i volontari del movimento al lavoro per ripulire il percorso dai graffiti che lo deturpavano il parco stazione sotto la lente del tar attesa la sentenza ieri l'udienza di merito sul ricorso della ditta arrivata seconda di Isernia e poi venafro a rischio invasione tra virgolette previsti 250 richiedenti asilo oggi in consiglio si discute di sprare l'amministrazione verso l'ok per limitare il numero a 137 premio di risultato i funzionari si ribellano non alla restituzione e quindi fanno appello al giudice casa all'asta frattata famiglia con tre bimbi l'abitazione potrebbe diventare centro d'accoglienza per i migrati l'egiziano Ayman perfettamente integrato a Venafro dovrà lasciare l'immobile entro un mese e poi a termoli file chilometriche agli sportelli Crea la società che gestisce il servizio idrico bollette in arrivo già scadute e con somme considerevoli il gestore non farà però pagare alcuna sanzione ed ora una veloce panoramica sui principali nazionali con il Corriere della Sera Isis Trump chiama la Nato con il Papa a dialogo su pace e ambiente ma da gentiloni boccia l'intesa sul clima il Presidente americano in visita a Roma rilancia la lotta al terrorismo oggi sarà al vertice di Bruxelles dal Corriere alla Repubblica la rete libica dei terroristi arresti fra Manchester e Tripoli in carcere padri e fratelli del Kamikaze la bomba opera di un esperto al vertice di Bruxelles la svolta la Nato entra nella coalizione anti-Isis senza però ruoli di combattimento migranti il naufragio dei bambini un'altra strage in mare ieri nel canale di Sicilia 34 le vittime molti bambini tra queste l'Isis tiene famiglia il Kamikaze di Manchester non era solo arrestati anche il padre e il fratello nascosti in Libia siamo del califato hanno dichiarato e poi il messaggero con le svolte di Trump a Roma il Presidente degli Stati Uniti vede Bergoglio e parla di pace non dimenticherò mai le parole del Papa ha dichiarato a margine dell'incontro poi un altro incontro con Mattarella e con Gentiloni l'Italia strategica in Libia ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti e schiera la Nato contro la Jihad arrestati i parenti del Kamikaze erano in Libia siamo dell'Isis Manchester presi a Tripoli padre e fratello ora è caccia all'artificiere e poi le notizie dello sport Pepe sul Napoli scintille tra Reina e la società dopo una battuta del Patrona alla cena della squadra tweet venenosi del portiere e anche della moglie possibile dunque una fino ad ora imprevista e imprevedibile rottura Juve il piano per Cardiff dove si giocherà la finale di Champions sabato 3 giugno la sfida a Zidane a Real Madrid tutte le tappe per costruire il sogno migliaia di tifosi in bus un viaggio che durerà complessivamente 50 ore bene era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi il prossimo appuntamento in diretta con l'informazione di TVI Molise alle 14 con il telegiornale intanto l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti